Volontari nuovamente in azione a Ribera per un secondo intervento di pulizia straordinaria dell'abbeveratoio all'uscita nord di Ribera. Questa volta, oltre alla rimozione dei rifiuti, i volontari di Ribera Lab, con la preziosa collaborazione del gruppo scout e di una ditta specializzata, hanno anche provveduto alla potatura degli alberi e degli arbusti per rendere armonico il giardino che circonda l'abbeveratoio, in contiguità con la cura del confinante parco della rinascita. Un intervento di cura del verde che proseguirà anche nei prossimi giorni. Ribera Lab, intanto, ha programmato per domenica prossima un nuovo intervento di pulizia e sistemazione dell'abbeveratoio giordano e delle sue aiole. L'obiettivo fondamentale è quello di valorizzare il patrimonio storico architettonico di Ribera, ma le iniziative anche hanno la finalità di sensibilizzare i cittadini ad avere cura degli spazi pubblici.